Buongiorno a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono FuraiMintendo E oggi siamo tornati su Super Smash Bros. Ultimate per fare il nostro sedicesimo episodio se non sbaglio Vabbè, allora, non so se avete visto il vlog di ieri, allora, sì di ieri Ma praticamente, ehm, ho, sono riuscito a battere, a battere Iggy E non sto scherzando, eh, veramente, non pensavo mai di riuscirci Adesso vi faccio vedere anche com'è, ma prima di tutto, vieni qua, vieni qua Espur Vieni qua, che ci è venuto a salutare, io mi comincio Mi comincio, mi comincio, mi comincio, mi comincio Vabbè, vai, 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 vai Vabbè, adesso vi faccio vedere un po' la mia attrezzatura, aspetta Praticamente ho usato Bearhugger con più velocità e Snorlax Che, praticamente, come leggete, effetto diventi impetuosi ridotto Bene, vabbè, spero che questa sfida, invece, non sia troppo difficile Vai, attacco Cacchio, pure due Gigli, papi No, 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 no Però che prima o poi finisca stamattina Ok, l'occhio è andato Ok, l'aspetta, bisogna uscire voi Perfetto, ragazzi, eh Si parte già alla grande, spirito maestro Ovviamente l'ho potenziato un bel po' Bearhugger Scusate che ho fatto col verso di Ghiatto Però c'era Esbur che... Vabbè, l'avete capito Adesso io non so, non mi ricordo cosa dovevamo fare però Ah, dovevamo andare qua, giustamente Ah, sì, di fatto eravamo abbastati l'altra volta Siamo contro... Siamo contro Bayonetta Siamo controllata da Quintel Ok, formazione Personaggio Ah, perché c'è sto... Perché c'è il tema musicale di... Come si chiama? Di Super Mario Odyssey C'è un tema musicale però che... Ma, guardatevi capito Non c'è niente collegato a Mario Cioè, collegato a Hans Vabbè, ne lo so Vabbè All'attacco con me, Matt Matt Ok, parti sotto Oh, Bayonetta, quando fa così non la sopporto proprio Ok, bisogna prima schifare e poi colpire Va bene Calma Muori Ok, alla fine Bayonetta basta semplicemente che... Calcolare il timing di quando sta per evocare le braccia ai calci E poi stiamo a posto Vai Così, vedete, voglio usare un po' Mart Anche se è un personale... Secondo me è uno tra i personaggi quelli più fisici Diciamo Cioè, quelli là che attaccano ora di più col corpo Intanto lui non ha soltanto la spada Senza la spada senza offesa, Marte non può usare Come se poi non saresti niente Stiamo contro Sonic, controllato da Infinite Ok Dove guardare? All'attacco Vai, Sonic! Ah, d'acciaio poi Pronti? Via! Oh no, 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 no Non capisco più niente No no, però, non la colpisco Sonic Ok, non ve lo vedo No! No! Non riesco a comprendere Ok Ok, Mart contro questo è meglio di no No, no, veramente non avevo personaggi Scegli un personaggio! Stiamo con Pac-Man Direi che vada bene, direi che non lo so però io Vai, se non va bene, mi interessa, vai Forza Sonic, di nuovo Pac-Man forse lo so già un po' più Pronti? Via! Eh, vorresti eh Davvero Sharon, maledizione Sonic Non mi piace quando usano potenziamenti che a me non piacciono per niente Tipo i Penty e la gravità Cioè, non la gravità, la... L'invertimento dello screwdriver, no, ce l'ho fatta Ok, bisogna colpire Sonic, è più possibile No, no! Ok Non mi piace quando mi non piacciono Ok, ci ha suicidato Sonic, va bene, ok, ce l'abbiamo fatto, ok, almeno questo, vai, infine, bello Luigi. Oh no, Remo, no, Remo, no, ok, alla tarda. Spero solo che non ci siano i venti, spero solo. Pronti? Via! Ok, però adesso non sembra esserci per l'està, non sembra esserci per l'està, non sembra esserci per l'està, no, 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 no Forse dovrei cambiare Bearhugger con qualcuno con più potenza Vai Bearhugger Vediamo 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 Qualcuno ha più potenza Vediamo questo Attacco vai Proviamoci però non lo so io A me serve qualcuno che mi dia potenza La facca al personale interno Pronti? Via No L'autobus 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 Ok basta semplicemente stare attenta a quando pare Eh si però mannaggia all'autobus Mancava foto Dai cavolo Mannaggia all'autobus Oh ma non riesco a prevederlo Non riesco a prevederlo veramente Cioè devo sia tenere d'occhio Siamo qui ci siamo all'autobus Che non mi catturi Oh ma cadi prima o poi o cosa? Dai l'autobus Lasciami stare Ok Pacman è inizio Cambia formazione Scusate se mi sto così alterando Però veramente a me è veramente Cioè quando esagerano esagerano Mi serve qualcuno di velocissimo Usiamo Yoshi va Che dovrebbe andare bene in teoria Kirby non mi serve invicipita Mi serve altra roba Mi serve qualcuno che colpisca velocemente E' molto forte Pronti Via Mia! Sì! Sì! Cì! Ah mi ha fregato mannaggia l'autobus Ma come fa? Ha fatto a prendermi Sì però non riesco a prevederlo in tempo Eh vabbè adesso mi frega pure Luigi dobbiamo capirci Vuoi continuare? Dio Ok Snorlax No 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 Vabbè ci ripetiamo un'altra volta poi Poi che devo cambiare perché Snorlax sei inutile In questa battaglia Pronti? Via! Ma non mi hai preso Ok mi serve un altro personaggio non va bene Mi serve un po' di un altro spinto Ok Snorlax mi spiace ma sei inutile Ecco scrivete più facile Proviamo a scrivete più facile va? Mi immaginavo che sarebbe stato Dio con questa battaglia all'inizio Mi serve un po' di un altro spinto Dalla presa, dalla un'azione Muori! Oh, finalmente, mamma mia Ci ha voluto proprio il cambio spirito Dio mio C'è una cosa, adesso usiamo quel Quel will lì, va Adesso, se me lo ricordo Se non c'ho l'Alzheimer Andrei un attimo a prendere sto spirito Formazione, va? Usiamo subito quello lì, va? Se ce l'ho, ecco, dovrebbe essere questo No? Possibile? No Vabbè, all'attacca Sì Non c'è il trattempo libero Pronti? Ok, il mio da trattempo È la madonna Ok, qua non è la sfida Ok, Kirby, mi serve Qua c'è Spur, eh, raga Ok, Kirby, questa volta mi devi aiutare Kirby Kirby Andrei Dai Pronti? Via! Ma come? Ma non si... Ma che bello? Vuoi continuare? Ok, attacco di fuoco è inutile, allora... ... 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